Macro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno bio farmaceutica. La motivazione per essere un'azienda da sempre impegnata nella ricerca di opzioni terapeutiche per pazienti che convivono con malattie potenzialmente letali per l'approccio innovativo e costante alla scoperta di nuovi farmaci e per avvalersi di un team straordinario concepito come una famiglia. Il premio va a PTC Therapeutics Italia. E partirò proprio dal tema della famiglia, lavoro come famiglia. Intanto saluto Riccardo Ena, Italy Country Manager. Bentrovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Insomma, questo concetto del lavoro come famiglia mi ha colpito molto, ma prima le chiedo un commento a caldo proprio sul premio. Allora, intanto siamo, sono molto contento di rappresentare il team Italia perché rappresenta davvero il cuore di questo premio, nel senso che come giustamente ha sottolineato lei, stiamo riuscendo in qualche modo a trasferire in tutti i sensi all'esterno questo modello di lavoro che non è proprio come una famiglia, ma diciamo che effettivamente è in grado insieme di produrre dei risultati che sono davvero sorprendenti per quanto mi riguarda. Sì, insomma, dire che il lavoro come una famiglia significa soprattutto nell'ambito in cui operate voi dire che tutto è fatto con calore. Insomma, non è solo freddo business, mi conceda questa espressione, no? No, ha detto bene perché poi abbiamo in qualche modo una mission molto seria che condividiamo e che quindi rispecchia quello che sta appena dicendo, che ha appena detto. E cioè il fatto che noi cerchiamo di occuparci della vita degli anni delle persone, non assolutamente, non cerchiamo di allungare, ma piuttosto di riempirla di contenuto da un punto di vista qualitativo. Quindi è un lavoro quotidiano emozionale che cerca ovviamente di andare anche oltre il business e oltre il farmaco perché poi alla fine noi non cerchiamo di forzare i percorsi, ma al contrario collaboriamo con tutto il sistema affinché i pazienti possano essere presi in carico velocemente, con grande efficacia. Cioè noi siamo, se vogliamo, una parte di questa presa in carico. Non siamo assolutamente, diciamo, la conclusione. Siamo un anello di questa importantissima catena. Nella motivazione abbiamo seguito proprio gli ingredienti di questa ricetta di cui stiamo parlando oggi, quindi il team concepito come una famiglia, l'approccio innovativo e poi ovviamente l'ha detto anche lei, la scoperta di nuovi farmaci. Però tutte queste cose vanno di pari passo e l'approccio innovativo immagino sia quello che lei ci ha descritto, cioè il fatto che si cerchi di riempire la vita di un paziente, no? Piuttosto che magari accanirsi, come si suol dire, a livello terapeutico. Guardi, la cosa più interessante che siamo riusciti a fare in questi ultimi due anni, in particolare in quest'anno, è stato quello di riuscire a cambiare un paradigma che è storico nelle aziende farmaceutiche, cioè parlare di terapia come farmaco. Noi parliamo di terapia appunto come presa in carico. È qualcosa di estremamente diverso che ci ha permesso, tra l'altro collaborando con diverse associazioni, ma soprattutto con anche delle federazioni di medici, di riuscire a cambiare alcuni sistemi che andavano avanti da tempo, ad esempio i bilanci di salute dei bambini. Cioè noi siamo riusciti insieme, per esempio, alla Federazione Italiana dei Medici di Famiglia Generale, a cambiare alcuni segni e sintomi che sono all'interno di questi bilanci di salute affinché effettivamente ci sia un'attenzione massima allo sviluppo neuromotorio dei pazienti. E per me questo è il risultato, se vogliamo, più straordinario, e che dimostra in maniera inequivocabile come effettivamente le aziende oggi, soprattutto quelle farmaco, possono andare oltre il farmaco ed entrare in un sistema completamente diverso. Quello proprio di attenzione massima al paziente. Poi credo alla fine l'azienda e il business lo fanno lo stesso. Noi pensiamo che sia giusto che lo faccia alla fine dell'imbuto. Ecco, e tutto questo poi per diventare eccellenze, no? Quello che insomma stiamo premiando noi. Io ringrazio, la ringrazio Riccardo Ena, Italy Country Manager di PTC Terapeutics Italia. Complimenti per questo riconoscimento. Grazie a voi e sono molto molto onorato. Grazie. Grazie.